Ciao a tutti amico Francesco, oggi siamo qui per vedere come fare, non so se avete presente, quegli aerei che lanciano delle bombe, non mi ricordo come si chiamano, allora non ci vuole niente, non ci vuole niente, basta che prendete, scusate se lo leggerò un pochino però lo vedrò e vedrò qualche tutorial su come mettere i root sul telefono. Vedete si bug, questo è Minecraft Pocket Edition, quello là non che mi deve dire, originario voglio dire, vi consiglio un canale che sarebbe tutto informatica, lui ha fatto il mio stesso esperimento, scusate non so parlare, il mio stesso esperimento quello del cannone però questo non l'ha fatto, quindi io subito ne approfitto, vi lascio il link in descrizione su come si chiama il suo canale, infatti è un amico di scuola, ci conosciamo da elementare e quindi ve lo consiglio. Allora così penso che vada bene, ora voi non laggerà perché non registrerete però a me oppure a Michael perché lui ha fatto vedere come fare la registrazione al telefono, a me e a lui laggerà a bestia. un, due, tre, tre qui, dico uno, due, tre ora prendete la TNT Ecco così, e mettete tutta la PMT, e poi lo faccio lì, ecco fatto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!